...andata a portare, a firmare il primo vantaggio per Broni, 4 a 2. Quelle giocatrici che vuoi sempre avere in squadra perché sanno sia difficili le armi di Broni, sono le due lunghe sotto e stiamo collassando in aria molto bene e recuperando palloni. Rosova va a rimbalzo dopo l'errore di... Ricordiamo, la giocatrice di nazionalità slovacca ha traverla... ...ha portato anche a San Martino e quindi quando tu hai delle giocatrici così... Nella disponibilità di San Martino di Lupari che attacca con Bailey, buono la triangolazione. Meschio contro La Cusa, 27 a 22, ancora un recupero della difesa di San Martino. Riapre per Broni, riceve da rimorchio la scoppata di Orpini. Complimenti a Jasmine Kiss, complimenti a chi poi ha il coraggio perché a parole siamo tutti bravi a parlare di giovani, però se siamo nel mondo del lavoro non vediamo la... Gianolla, il linguaggio del corpo dice che sono due squadre che non si stanno risparmiando, sono stati... Angela quando era a Taranto e aveva l'onore, il privilegio, ma anche l'onere di giocare per esempio con una certa Greco, no? Sì, Michel Greco. Rosova in angolo, piedi a posto da due, dicono gli arbitri, ma è l'errore di Rosova che conquisse il decimo. C'è quel lancio di Bonassia che finisce direttamente fuori. Nel finale anche a Schio, con Schio che batte Ragusa, 78 a 60. ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.